la legna è una data di rennes, non ci riuscire a fare la problematica tocca la maniera o la salita? tocca il tuo uso o so? anche perchè sempre c'è il turbore che a me vedete i problemi di risarmi del vento si, 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 si se avete i progetti delle M2 in disegno c'è quello che faccio di Gelli Mores che vorrebbe anche il sistema per fare questo è un'idea di dire che non si è un sottotitivo non è da fare grazie 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 grazie